Ciao Felicini, ascoltatemi un po', penso di aver visto qualcosa di blu e di rosa qui sul divano, aiutatemi un po'. Io ho tanta paura, mi hanno un po' parlato di un certo aggi-waggi e di una certa chissime, sì, ma io ho molto timore, mi hanno raccontato cose veramente spaventose. Spaventose, vedete qualcuno voi? Oddio mio! Chi? No, non è possibile, io ho paura! Aiuto Rosy, Rosy! Giustino, Giustino, che succede? Giustino, Giustino, dove sei? Oggi, oggi! Dimmi Sara! Mi sa che sei andato, Rosy! Dove? Il paventato, Giustino? Non vengo, io non vengo! Ma che cosa c'è? Bambini, cosa c'è? Cosa ha visto, Giustino? Ci sono i ghi-waggi, sì, sì! Siete sicure che ci sono? Sì, vedi, vedi! Ho paura, ho paura! Anche a me hanno raccontato cose spaventose, però sto attenta. Anche a me è sembrato di vedere aghi-waggi! Vedi, veramente, c'è la faccia di aghi-waggi! E c'è il braccio, guarda qua! Ma vedo anche qualcosa di rosa, è vero? Ah, sì, ma mi sa che me ne vado anche io, magari lo troveremo insieme a Giustino. Guarda! Guarda! Ah! È vero! Qui c'è chi-waggi! Ah! Scappiamo! Ciao!